Un incontro al procuratore facente funzioni a conferma della massima attenzione al fenomeno. È l'esito dell'incontro di questa mattina tra il sindaco Ernesto Tedesco e alcuni commercianti della città, esasperati dai continui furti che si continuano a registrare con una frequenza preoccupante. Il primo cittadino ha parlato con polizia e carabinieri per assicurare maggiori controlli nelle vie del centro, soprattutto di notte. L'incontro col procuratore servirà a portare anche alla sua attenzione un problema che in città sta diventando davvero di difficile gestione, soprattutto per chi, oltre alle fatiche del lavoro e ai sacrifici legati all'attività, è costretto a fare i conti con i ladri che continuano a colpire indisturbati. Siamo soddisfatti delle disponibilità del sindaco, afferma uno di loro, che si è messo a disposizione per affrontare la delicata questione. Credo che il suo intervento non debba concludersi qua. Ci sono una serie di iniziative che bisogna mettere in campo per arginare un fenomeno che indubbiamente ci preoccupa. In che modo? Sicuramente aumentando i controlli, ma anche con giuste pene per le persone che commettono questi furti, che a volte sono state arrestate dalle forze dell'ordine. Siamo stanchi e qualcuno potrebbe decidere di mettere in piedi azioni personali per farsi giustizia da solo. In futuro, a supporto dell'amministrazione comunale, potrà essere usato anche il sistema di videosorveglianza, inaugurato due settimane fa al Pirgo, e che potrà essere ampliato con l'inserimento di telecamere già presenti in altre zone della città, ma che risultano guaste o spente. Nel frattempo i furti non si fermano e le segnalazioni sono continue. Tra i locali più colpiti c'è la pizzeria Red Carpet del Ghetto, che ha fatto registrare tre furti da maggio ad oggi, due dei quali in una settimana. Ma sono diversi i locali presi di mira. I colleghi commercianti si stanno organizzando con una catena di contatti per aggiornamenti continui e in tempo reale sulla situazione, con tanto di ronde notturne, per proteggere il proprio locale. In attesa di una soluzione definitiva, richiesta a gran voce e che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.